Per la prima volta è stata fatta una stima dell'impatto dei disastri naturali sull'agricoltura mondiale. Negli ultimi 30 anni sono andati persi circa 3,6 trilioni di euro in colture e allevamenti. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, la siccità è responsabile di quasi metà delle perdite, ma anche inondazioni, tempeste, parassiti, crisi sanitarie e guerre hanno un impatto crescente. L'Asia è il continente più colpito, ma a livello globale la perdita media è di 116 miliardi di euro all'anno, pari al 5% del prodotto interno lordo agricolo mondiale. La cifra potrebbe essere molto più alta se fossero disponibili dati sistematici sulle perdite nei sottosettori della pesca, dell'acquacoltura e della selvicoltura.